Ciao Andrea, ho ricevuto il tuo messaggio. Sentiamoci per favore sul tardi, verso le undici o mezzanotte, perché a quell'ora potrei avere tempo e una buona connessione internet. Poche ore dopo aver mandato questo e alcuni altri messaggi vocali ad Andrea Nicastro, l'inviato del Corriere della Sera che gli aveva chiesto un'intervista sulla situazione in Afghanistan, Faim Dashti è morto. Da quando i talebani avevano riconquistato Kabul il 15 agosto dopo il ritiro degli Stati Uniti, Faim era diventato portavoce del fronte nazionale di resistenza guidato da Ahmad Massoud, figlio del leggendario comandante Massoud che aveva combattuto contro i sovietici tra 1979 e l'89 e successivamente contro gli stessi talebani. La notizia della morte è arrivata domenica, due giorni dopo la pubblicazione sul Corriere dell'intervista in cui Faim Dashti aveva descritto la situazione nella valle del Panjshir, che i talebani sostengono di avere conquistato anche se i resistenti negano. Nell'episodio di oggi, Andrea Nicastro ci racconterà la storia dell'uomo che dal 2001 al 2011 ha diretto il Kabul Weekly, il giornale più venduto dell'Afghanistan e stampato in tre lingue, Pashtun, Tajico e inglese, e che a 48 anni è stato ucciso dopo una vita straordinariamente coraggiosa, un po' il simbolo di ciò che sta accadendo in Afghanistan in queste drammatiche settimane. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 8 settembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Andrea, partiamo dal primo messaggio audio di Faim che abbiamo ascoltato. Il primo messaggio è stato importante perché era la presa di contatto. Lui per fortuna si ricordava di me, di quando ci eravamo incontrati all'inizio dell'esperienza americana, nel 2001, quando lui era rientrato dall'estero e dal Panjshir come tanti altri per cercare di lavorare, aveva fondato il suo giornale Kabul Weekly e io l'avevo invitato a Casa Corriere, la casa che il Corriere aveva affittato per i giornalisti che si alternavano nella capitale afghana, e l'avevo cucinato e devo dire era una buona frocchetta, era la prima volta che mangiava della pasta asciutta all'italiana, si lamentava sempre che fosse per lui troppo dura, diceva ma perché non la cuoce un po' di più, insomma. E da lì è nata un'amicizia che ovviamente negli anni è andata un po' scemando, sì, e riuscendo a contattarlo sono stato contento che si ricordasse di me. Chi era Faim Dashti? Faim Dashti, io l'ho conosciuto ancora con i capelli neri nel 2001, ma la sua storia ha avuto un culmine il 9 settembre del 2001, due giorni prima dell'attentato alle Torri Gemelle. Quel giorno lui era un giovane studente, intellettuale direi, Tajico, che aveva l'ambizione di scrivere la biografia del suo grande eroe, appunto Ahmad Shah Massoud, il leone del Panjshir, l'uomo che aveva resistito ai sovietici e stava resistendo ai talebani. E lui era con lui in montagna, in clandestinità ovviamente, perché i talebani assediavano il Panjshir anche allora, e aspettava il suo turno per fare una delle ultime sessioni della sua intervista per poter scrivere la biografia dell'eroe. Prima di lui però dovevano intervistare Ahmad Shah Massoud due giornalisti tunisini che avevano però l'accredito della tv marocchina. Dovevano intervistarlo, una cosa che succedeva abbastanza spesso, perché Massoud era un personaggio conosciutissimo e popolare. Bene, questi due giornalisti in realtà erano terroristi suicidi assoldati da Osama Bin Laden, il leader di Al-Qaeda, che voleva eliminare Ahmad Shah Massoud prima dell'attentato delle Torri Gemelle. Perché? Perché era convinto che la leadership di Massoud avrebbe potuto ostacolare la resistenza dei talebani di fronte a un'eventuale reazione americana dopo l'11 settembre. E aveva perfettamente ragione. Probabilmente con Massoud ancora vivo, la vittoria americana e quindi la cacciata dei talebani, avrebbe avuto un'altra storia. Massoud sarebbe probabilmente riuscito ad unire sotto al suo carisma le popolazioni afghane, cercando di trovare una soluzione istituzionale diversa. Soluzione che non c'è stata quando gli americani hanno deciso invece di imporre il loro presidente, che era Hamid Karzai. I terroristi di Al-Qaeda si fanno esplodere davanti a Massoud. Cosa succede invece a Faim? Faim è nella stessa stanza, ascolta perché non vuole perdere una parola, quindi anche lui prende appunti rispetto a quello che avrebbe potuto dire Massoud ai finti giornalisti tunisini, ma quando la telecamera imbottita di esplosivo deflagra, anche lui viene coinvolto e investito da una fiammata. Deve andare addirittura a Parigi per farsi curare le ustioni, subirà anche degli interventi di chirurgia plastica, ma salva la vita, mentre Massoud lotta per qualche ora e poi muore. Come dicevi prima, tu recuperi il contatto con Faim Dashti appena inizia il ritiro delle truppe occidentali, quando è chiaro cioè che per i talebani ci vorrà pochissimo per riprendersi l'Afghanistan. La tua intervista con lui esce sul Corriere il 3 settembre, durante l'attacco dei talebani in Panjshir, la valle nel nord del paese in cui il fronte nazionale di resistenza, erede di coloro che avevano combattuto l'invasione sovietica nel 79 e poi i talebani, sta provando a fermare l'avanzata degli integralisti. Qual era la situazione in quel momento? All'inizio di agosto di questo 2021, tutte le città capoluogo dell'Afghanistan erano ancora controllate dalle forze del governo fino americano di Ashraf Ghani, il presidente. È vero, in quel periodo c'erano alcuni distretti, soprattutto nelle campagne, che avevano cambiato schieramento ed erano state conquistate dai talebani. L'idea era che l'esercito afgano, con l'aiuto dell'aviazione americana, riuscisse a mantenere il controllo dei grandi centri. A un certo punto però, proprio circa verso il 5 di agosto, è cominciato a cadere una città nell'occidente dell'Afghanistan, quasi al confine con l'Iran. E da quel momento la caduta è stata rapidissima. I talebani si presentavano alle porte della città con pochissimi miliziani, circa mille, mille e cinque per ogni città, anche armati in modo leggero, perché viaggiavano veloci, con le moto, con le automobili, non spostavano neppure in mezzi blindati, e dialogavano, trattavano, con gli anziani delle diverse città, che offrivano come mediatori la resa al governatore, al capo della polizia, al capo della guarnigione. Ebbene, questi esponenti del regime ufficiale, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno abbassato le armi, hanno ceduto, hanno accettato di vendere la propria incolumità, magari anche in cambio di denaro, cedendo il controllo della città ai talebani. Qual è la ragione di questa rendevolezza? Perché avevano capito che ormai i giochi erano fatti. Ormai l'idea che i talebani dovessero condividere il potere, come minimo, era stata sancita negli accordi di Doha tra americani e talebani del febbraio 2020. E lì, scritto nero su bianco, i talebani si impegnano a non sparare agli americani durante il ritiro e in cambio dovranno trattare per un governo inclusivo, per un governo di larghe intese, con il resto della popolazione, il resto delle componenti dell'Afghanistan. Fino al giorno del ritiro americano, i talebani non avevano mai accettato di trattare col governo legale, col governo riconosciuto internazionalmente, di Ash Afghani. Quindi tutti hanno pensato, se non l'hanno fatto fino adesso, che c'erano gli americani a proteggerci con l'ombrello dell'aeronautica, perché dovrebbero farlo adesso? Il 15 agosto, dopo la fuga in elicottero del presidente Ashraf Ghani, cade anche Kabul. Quando la notizia si diffonde, i soldati si tolgono l'uniforme, la polizia sparisce dalle strade, chi può scappa e iniziano i giorni dell'assalto all'aeroporto della capitale. A resistere contro i talebani restano in pochi. Chi sono? È una storia antica, perché questo è il secondo emirato talebano. Il primo emirato talebano, quello concluso con i bombardamenti americani del 2001, aveva già isolato i suoi oppositori in una piccola zona del nord-est dell'Afghanistan, tra Panjshir e provincia del Badakhshan, che arrivava al confine con lo stato estero, Tajikistan, dove si erano ammassati gli oppositori dei talebani. E gli oppositori dei talebani chi sono? Sono le altre etnie che non hanno una vera rappresentanza dentro al movimento talebano, che sono Azhara, una popolazione di origine mongolo-turca e tendenzialmente di religione sciita, che sono Tajiki, che invece è una popolazione iranica, che parla una lingua molto simile al persiano, e gli Uzbeki, che parlano a loro volta persiano e uzbeco, che si erano asserragliati in questo angolo di paese. Potevano difenderlo perché, da una parte avevano la protezione delle montagne di questa famosa valle, la valle del Panjshir, e dall'altra avevano la possibilità attraverso appunto la provincia del Badakshan di ricevere aiuti dal Tajikistan. In questo modo Fort Alamo, la ridotta montagnosa del Panjshir, poteva essere rifornita dall'esterno. Fahim Dashtar, in realtà non abbiamo abbastanza informazioni su quello che sta in Kabul. Siamo che lui, il Presidente Karzai e altri leader hanno stato in contatto con alcuni leader taliban. leader. Quindi questo è quello che sappiamo. Questa è di nuovo la voce di Fahim Dashti. Che cosa ti sta dicendo in questo messaggio? Fahim sta rispondendo alla domanda sul ruolo che l'ex Presidente Karzai e l'ex Primo Ministro Abdullah Abdullah avevano in quel momento nei confronti della leadership talebana. Cioè loro sono gli unici due esponenti del passato regime filoamericano ad essere rimasti a Kabul sfidando una tradizione quella talebana che non era decisamente favorevole agli sconfitti. I leader che ti chiedevo sono fuori Afghanistan ma ci sono altri che sono fuori Afghanistan e non so se siete interessati a avere informazioni su loro. Io qui gli chiedevo se un talebano che era solito rilasciare gli esiti degli incontri dei negoziati tra il nuovo regime e la resistenza panjira fosse l'unico con cui loro trattavano perché lui mi aveva mandato un messaggio precedente con una registrazione appunto dei colloqui col talebano e lui mi risponde no no assolutamente noi abbiamo diversi contatti perché sostanzialmente diverse sono le anime talebane una era quella talebano che parlava come dice Afaim al telefono ma poi ci sono state degli incontri faccia a faccia con delegazioni di alto livello e altri contatti con altri leader anche la resistenza panjira era consapevole del fatto di non avere a che fare con una autorità unica o almeno così credeva ma con diverse fazioni talebane e con tutte cercava di dialogare come è andato a finire il dialogo lo vediamo in questi giorni i talebani continuano a essere divisi in fazioni anche adesso che hanno in mano il paese il che però non ha impedito loro di mettere in crisi la resistenza in panjira tu sei andato per la prima volta in Afghanistan vent'anni fa quando iniziò la missione statunitense dopo gli attentati a New York e Washington che effetto ti fa oggi vederli cadere il paese nelle mani dei talebani e veder morire persone come Faim Dashti dal punto di vista storico credo che sia una grande sconfitta per tutto l'occidente noi siamo entrati a Kabul abbiamo cacciato i talebani certo per vendicare che non è mai un bel sentimento l'attentato delle torri gemelle ma eravamo lì perché il terrorismo era male perché la ideologia dei talebani era male era la stessa ideologia che aveva permesso non solo di rinchiudere le donne sotto al burka non solo di fustigare le persone che non portavano la barba ma aveva garantito a Bin Laden lo spazio di manovra per creare la sua scuola di terroristi suicidi e dopo 20 anni noi permettiamo a queste stesse persone di tornare al potere semplicemente un po' più forti perché gli abbiamo lasciato 66 miliardi di armamenti a disposizione noi come Italia abbiamo sacrificato la vita di 53 soldati e ci ritroviamo oggi a dover constatare che quelli che avevamo combattuto sono regolarmente al potere con in più più armi grazie andreani castro oggi finiamo qui per altri approfondimenti nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di corriere.it se volete scriverci mandate una mail a corrieredaily chiocciola rcs.it Corriere Daily torna domani Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari produzione di Carlo Annese montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi iscriviti alla serie nella tua app preferita riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico mattina di un nuovo